La storia d'amore tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? Decisamente meglio di una telenovela. Quando tutto sembrava ormai finito, con la subretta argentina felice accanto al giovane air stylist Antonino Spinalbese, dal quale ha avuto la secondogenita Luna Marie, ecco arrivare il colpo di scena. Per incompatibilità caratteriale Belù ha detto addio al 26enne e si è riavvicinata all'ex marito. Il ritorno di fiamma è ufficiale, come confermato dai diretti interessati sui social network e in alcune interviste. Stando però a quanto riporta da Gospia la relazione tra Belen e Stefano non si sarebbe mai interrotta del tutto. Complice la presenza del figlio in comune Santiago che oggi a nove anni la Rodriguez e De Martino non avrebbero mai posto un punto conclusivo al loro rapporto. Un amore forte, profondo, intenso, che come scrive il portale di Roberto D'Agostino resiste all'orgoglio, alle corna e alle pubbliche pressioni. Stefano e Belen, a più di dieci anni dal primo incontro avvenuto ad amici, sono più innamorati che mai e oggi vivono una nuova fase del loro legame. Belen e Stefano sono tornati insieme ma non sono tornati a convivere ma si godono il loro sentimento come due fidanzatini. Passano insieme la maggior parte delle notti. A casa di lei, nell'appartamento di lui o in qualche suite d'albergo lontana dalla città e soprattutto dai paparazzi. Questo loro terzo ritorno di fiamma sarà quello definitivo? Sarà davvero questa la volta buona? Questa non è la loro terza volta. Questa è forse solo la continuazione di quell'unica volta, quella in cui iniziarono a ballare e a cui sempre hanno fatto ritorno. Questa è la loro terza volta. 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 Questa è la loro terza volta.